Consueto appuntamento con l'informazione di Globus Television, canale 819 del digitale terrestre. In apertura l'omicidio di Lucrezia Di Prima, il giudice per le indagini preliminari della procura di Catania, ha convalidato il fermo di Giovanni Francesco Di Prima per l'omicidio della sorella, avvenuto il 15 ottobre scorso nell'abitazione di San Giovanni La Punta. Ricordiamo che il 22enne, convocato in caserma e vistosi alle strette, si è autoaccusato del grevissimo reato ed ha accompagnato i militari in via della regione nel comune di Nicolosi, luogo in cui era stato occultato il cadavere. Il giovane, accusato di omicidio, ha consentito di far rinvenire sotto un mobile nel garage il coltello da caccia utilizzato. Cambiamo argomento. I carabinieri della sezione NAS di Catania hanno deferito all'autorità giudiziaria quattro medici operanti nella provincia, i quali rilasciavano certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-covid-19, certificando che i loro pazienti potevano essere ammessi in qualunque ambiente di vita e di lavoro, non presentando sintomi o segni di malattie infettive o contagiose in atto. Continuiamo. Aggressione ai patrimoni illeciti. Sottoscritto memorandum operativo tra la Procura Generale presso la Corte di Appello di Catania ed il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza, in linea con le specifiche ed esclusive competenze di polizia economico-finanziarie riconosciute al corpo. Andiamo avanti. Si è svolto a Roma l'appuntamento annuale sulla protezione dei dati personali nell'attività di polizia, organizzato dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, direzione centrale della Polizia criminale. La conferenza internazionale Eden, che ha visto al centro dell'iniziativa il fattore umano, diversi gli argomenti trattati dai 40 relatori che si sono alternati sul palco, dalla privacy alla cyber security all'intelligenza artificiale. Cambiamo argomento, passiamo adesso all'intervento della ministra Marta Cartabia all'Università LUIS Guido Carli, al convegno sulla responsabilità degli enti, un bilancio della riforma a 20 anni dal decreto legislativo numero 231 del 2001. Paola diceva, Paola Severino, questo capitolo del diritto penale ti dice che il diritto penale non è solo sanzione, ma è anche prevenzione, recupero e anche prevenzione e recupero non solo con un atteggiamento repressivo ma anche incentivante. Io trovo che questi aspetti siano molto significativi. Perché prevenzione? Perché c'è tutto questo stimolo a correggere, ad andare a correggere gli elementi non virtuosi, diciamo così, dell'organizzazione aziendale, ma anche uno scopo del diritto penale che non è quello di andare a deprimere l'ente, l'impresa, la società che pure ha commesso dei reati, ma innescando questi meccanismi di prevenzione futura è anche un recupero. In questo senso qualcuno, forse adesso Antonio Gullo stava facendo un nesso con l'articolo 27, può sembrare diciamo così ardito, ma secondo me il recupero coglie bene lo spirito dell'articolo 27, che si parla di rieducazione perché evidentemente non si poteva neanche immaginare l'idea di un diritto penale rivolto agli enti, ma quella rieducazione, quel recupero, quella riorganizzazione è veramente la declinazione sul lente di quello spirito, di quel principio costituzionale che mira con tutte le forme dell'intervento del diritto penale a in realtà recuperare più che a deprimere l'esistente, la persona fisica o giuridica. 50 anni del reparto volo della Polizia di Stato, vediamo il contributo di Massimo Sestini, il fotografo che con i suoi scatti spettacolari ha immartalato i vari paesaggi. 50 anni del servizio aereo compiuti quest'anno. Avventure indescrivibili, paesaggi pazzeschi, sono andato a cercare di raccontare quello che è la professionalità dei piloti della Polizia di Stato. Le emozioni di vedere un crepuscolo sul Colosseo che spazia la visibilità fino al mare, le emozioni di vedere le bucche di Bonifacio con l'arcipelago della Maddalena nel mezzo al maestrale più forte e classico di questo periodo della Sardegna. Passiamo adesso allo sport, al calcio. Prosegue l'allenamento della nazionale femminile di calcio in vista del terzo match di qualificazione al prossimo mondiale contro la Croazia che si disputerà venerdì 22 ottobre alle 17.30. Vediamo alcune immagini della partitella d'allenamento. Grazie. 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 e con questo era veramente tutto vi ringrazio di essere stati con noi buon proseguimento grazie a tutti